E' successo questo che un procuratore della Repubblica di Catania è andato in televisione a Rai 3 per la posizione ad Agorà e ha detto a mio avviso alcune ONG potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti, un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga, cioè miliardi immagino. Poi ha detto vabbè però io ancora non ho aperto un fascicolo, ha detto addirittura forse io non dovrei dirle queste cose in televisione, forse tu non dovresti dirle, cioè un magistrato, un PM, un procuratore della Repubblica va in televisione a dire può darsi che mi pare che non c'è neanche un fascicolo e sostiene che le ONG si mettono d'accordo con i trafficanti di immigrati e dopo di che su questo si apre una polemica politica furibonda, ci sono i 5 Stelle, ci stanno quelli della Lega, ma a voi pare normale che la magistratura si comporti in questo modo? Io non lo so, visto che per fortuna il Ministro Orlando ha dichiarato che la magistratura farebbe bene ad agire con gli atti, con le inchieste, con le indagini, magari con le sentenze, noi siamo arrivati a dire una volta ci voleva, la Costituzione prevede che i reati vengano accertati nel processo, nel processo neanche più se ne parla perché i reati ormai vengono accertati con un avviso di garanzia o con l'annuncio a un giornale, adesso addirittura la condanna non solo non avviene dopo un processo, ma avviene prima di aprire l'inchiesta, c'è un procuratore della Repubblica che ancora non ha aperto l'inchiesta ma già condanna le ONG e le condanna addirittura per un traffico superiore al traffico della droga. Io penso che, vabbè non ve lo dico esattamente che penso perché sennò stavolta prendo la querela.